bene a tutti ragazzi ho saputo se mi ha fatto un regalo mi ha promosso ora quindi mi faccio vedere l'occhio che ho fatto quindi ragazzi suono per ti ciocco qui ho detto abbiamo un regalo per te quindi ho preso il mio tecchie morti era questo è morti la famiglia non è grata quindi ragazzi è anonimo e morti eccola la famiglia di fare il volume è bellissima raga qui c'è stato molto bellissima non ho mai ricevuto un'altra morte ho avuto due morti nel 2019 che ve la mostra che era questa un attimo ho chiesto in battaglia a provare queste morti faccio una due video perché non voglio chiedere il corpo per nuove morti oggi mi è capitato anche a me ci fumo mi è capitato dici beh adesso fosse fosse forse 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 me la diamo basta o non è aperto messo tua seta una di o due domani voglio fare diversi perché non c'è la prima volta cos'è che è stato bacano ecco proviamo un qua qui sui giorni ecco l'avevo detto molto secondi e poi c'è anche questo sono questo leg che uno mi ha consegnato e tutto muore ecco suona la seconda no qua acquisti no che già ok se non c'è lo più vecchio mentre ce la prendiamo allora non mettiamo qui sono no si ma se non so più come li fanno buca buca campanita ciao ciao